Slitta mercoledì 9 agosto il faccia a faccia tra i vertici del Fondo Clementi e le organizzazioni sindacali sul futuro della FIMER, azienda di terra nuova Bracciolini che produce inverter per il fotovoltaico. Dopo l'incontro della scorsa settimana, il colloquio servirà per comprendere più nel dettaglio anche le nuove modalità di finanziamento proposte dal Fondo Inglese. Il 6 agosto infatti scadeva l'ultimatum per il versamento di 5 milioni da parte di Clementi, che però in quella data non è arrivato. Dovranno poi essere versati altri 17 milioni entro il 21 agosto e 95 a operazione conclusa. Domani i sindacati incontreranno Pierre Louvier, presidente del Consiglio di Vigilanza del Fondo Inglese. Spetterà così a lui chiarire il mancato pagamento della prima tranche. Il Fondo potrebbe infatti optare per una nuova modalità di finanziamento, immettendo liquidità per un importo maggiore per garantire il pagamento di fornitori e creditori, rimettendo così in moto a pieno regime la produzione, senza però passare dalle casse della FIMER. Intanto si avvicina anche la data del 21 agosto, giorno in cui il Tribunale di Milano ha fissato l'udienza per decidere sul piano di concordato preventivo. In quella sede il CDA della FIMER dovrà garantire garanzie e numeri sull'entità dei finanziamenti del fondo scelto per la cessione. Grazie.